A volte si incontrano delle persone, come è successo a me con Marta e Fabio, che ti fanno scoprire storie insospettabili. La vita evolve e cambia le situazioni, ma i ricordi restano come memoria di un passato che spesso appartiene ad una città intera e non solo. Ecco, questa è la vita di Otello, proprietario di un bar, una storia insolita legata a doppio filo con quella del glorioso Bologna Calcio.